Sono Fabrizio Tondi, sindaco protempo di Abbadia San Salvatore, un comune iperperiferico, di montagna, siamo sui 830 metri, caratterizzato dall'isolamento geografico per certi aspetti, perché siamo proprio al centro, fra Siena, Viterbo, Perugia, Grosseto, Firenze e Roma, con una popolazione di oltre poco più di 6.000 abitanti e quindi praticamente è un comune che si è trovato a confliggere e a ristrutturarsi dopo la chiusura delle minere avvenuta nel 1976, un lungo periodo di pensioni, di una politica del Ciave Modave e Ciano D'Addare. Entrando qui c'erano delle gravi criticità che erano l'occupazione, il mantenimento dei servizi, un po' la crisi del turismo, quindi c'era da mettere mano a diverse cose e questa è stata la spinta che mi ha, diciamo così, incoraggiato a affrontare questa impegnativa sfida, come ripeto, un comune di 18 chilometri quadrati in montagna con tutti gli annessi e connessi. Io mi sono proposto per quattro punti fondamentali. Uno che riguarda sanità e socio-sanitario, quindi la difesa di quello che era il servizio, diciamo, di assistenza ai più deboli, ai più fragili, insieme con il sostegno a persone che rimangono sole nei momenti di anzianità perché magari i figli sono andati a lavorare lontano, e il servizio sanitario in cui è presente un piccolo ma efficiente ospedale, che io rispetto ai monoblocchi dico è un monolocale, ma un monolocale ben attrezzato e ben efficiente. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è l'istruzione, la cultura. L'impegno è quello di essersi, ci stiamo adoperando per la realizzazione di scuole nuove, di un plesso scolastico nuovo, costruito secondo i nuovi criteri, diciamo, istruttivi che prevedono non solo l'insegnamento così all'Edmondo di Amici, se con tutto rispetto per il grandissimo scrittore, ma non con un'aula a destra, non a sinistra e bagno in fondo, ma qualcosa di più complesso che si interfaccia anche con nuovi sistemi, diciamo, istruttivi che si rifanno anche alla Montessori, in cui c'è la verticalizzazione per argomenti, per situazioni, per cose. E soprattutto un plesso che possa essere vissuto almeno 12 ore al giorno, che non sia solo scuola, ma possa essere un centro di cultura e di formazione per la popolazione. Con l'abbattimento delle vecchie scuole, che sono nel cuore del paese, una ferita presente da circa 15 anni e che quindi daranno agio con la costruzione di parcheggi, stazione Pullman ed altro, per dare agio di poter usufruire di quello che sono la zona sanitaria, l'accoglienza turistica, la zona dei parchi e la zona del centro commerciale naturale. L'altro aspetto è quello del lavoro. Qui praticamente eravamo in una situazione di crisi profonda, chiudeva Florabbiata, chiudeva Rivart, chiudeva Amiatamarmi, insomma c'era tutta una serie di situazioni veramente gravose. Fortunatamente, ma non per merito del sottoscritto, ma sicuramente ci abbiamo messo tutta per agevolare una situazione molto favorevole, ci sono esplose in mano centinaia di posti di lavoro e oggi invece che essere una comunità che va a cercare lavoro altrove, siamo qui e stiamo accogliendo molti lavoratori che vengono dalle zone limitrofe. Quindi una ripresa importante del manifatturiero. L'altra è il turismo con la ritrovata identità dell'Amiata, dell'ambito dell'Amiata. Ci siamo impegnati per la sua costituzione, sta muovendo i primi importanti passi e si vedono già dei risultati, in cui l'immagine unica dell'Amiata, con tutte le sue sfaccettature, le sue grandi offerte, le possibilità, specialmente anche avendo questa montagna bellissima che io considero il Central Park fra le cose più belle e più buone del mondo, veramente ci ha dato già degli stimoli importanti di una ripresa. Sono nati molti B&B, attività alberghiere che volevano chiudere e sono riprese e stanno reinvestendo. Quindi questo ha caratterizzato e può ridare un'identità anche di immagine attraverso quello che è la festa simbolo del nostro paese, che è la festa delle fiaccole. Quindi dare un'identità di immagine e di sostanza al paese.